Un forte boato, poi una lunga nube di fumo. Una fabbrica di fuochi d'artificio, la pirotecnica dei fratelli Schiattarella, è scoppiata in località Pontericcio a Giuliano. Tragico il primo bilancio. Due morti e almeno cinque feriti, di cui due in gravi condizioni. I morti sono Luigi Capasso, 45 anni, e Gabriele Vallefuoco, 66. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli di Napoli, invece, sul posto, sono subito accorsi i vigili del fuoco e soccorsi e gli uomini della polizia, del commissariato di Giuliano, diretti da Pasquale Trocino. Impressionante la scena che si sono ritrovati davanti. I feriti erano riversi a terra insieme al cadavere di un uomo, probabilmente morto sul colpo. In seguito all'esplosione si è sviluppato un incendio. Secondo i primi rilievi della polizia scientifica, le cause potrebbero essere accidentali. L'area è stata circoscritta, sul posto sono giunti anche i parenti delle persone che, a quanto si è appreso, lavoravano tutte nella fabbrica, che risulta regolarmente autorizzata. È un mestiere che è molto pericoloso. Purtroppo non possiamo fare niente. Questo uno deve guadagnare qualcosa di solito. Alla fine questo succede.